Bella a tutti ragazzi sono anche le benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi oggi abbiamo un compito importante nello scorso episodio abbiamo comprato nuova sta macchina al posto dell'altra no ho sbagliato come avete visto all'inizio del video proprio subito appena iniziato che ho accettato un contratto così almeno guadagnare un po' di soldi allora i veicoli sono questi qua questi peschi ce ne sono i lappeggianti che è un po' 14 un po' usato sto veicolo signore è un prongio di dio, non male facciamo un sorpasso? io non faccio niente se non mi prestano gli oggetti qui? e io devo concime fertilizzante non è possibile sono messo malissimo non lo posso vendere non lo posso vendere non lo posso vendere Allora, adesso io metto lì l'operaio, lo so, magari potete dire, l'olio a te lo metti sempre Non me ne frega, lo metto così almeno non perdo tempo ma tanto ci guadagno, non credo tanto Inizia che è larghissima Aspetta che credo che ce la faccio a farlo da solo Va, se me lo faccio io Non, madonna, è larghissima Pesci guadagno A presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No 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 se se lo prendo non me lo fa tutto guarda che divento una roba impensabile. Grazie a tutti. E sono bloccati. Ok va bene. Ok. 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 . Ok. 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 Ecco, mi stavo già nervosendo che non scaricava Grazie per la visione Vediamo la missione come sta Ma che operaio di merda Allora Uno, levati Due, vai indietro Tre, accenditi Quattro, tu stai fermo dove sei Cinque, chiudi il braccio Sei, continua Ma tua sorella ha completato Ok, questo può, no, questo deve stare fermo Questo adesso può iniziare a rifare Quello che gli manca Peggio di stare con i bambini, mamma mia No, te, madonna, lui deve pure tornare indietro Ok, stavo andando, sbagliato E ragazzi, se mai adesso vi concludo il video tra due secondi Non è possibile Sono già a mille euro Nel senso negativo Cioè sono già, sono ritornato povero In pochi secondi Oh, il ciclo continua Cioè non fai una cazza, ora Allora Allora Scusa ma che lo rompire io ho fatto Io lo rimetto Scusa ma te sei proprio deficiente Non è possibile La demenza in questo mondo E per loro è Infinita Vabbè 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 Ma scusa ma la tribialista Ma scusa ma la tribialista Ah boh ragazzi Ci vediamo le posizioni Bella a tutti Ehm Non lo so cosa faremo Ma Ma bello Vabbè 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 Vabbè